il video è nero o nero? è nero o nero? è nero o nero? non è nero come te! è la televisione che lo spielisce sei dei luci che ci puntano allora scusa eh allora cosa? quelle del lisi? che corone sono? eh! eh? quelle del lisi sono? quelle del lisi sono? ma se si fa quanti stanni? ma se si fa quanti stanni? oi! perchè non lo fio? 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 quindi... io negli insisi fanno guarda anche gli italiani di ruota no ma due o tre e basta però sono sempre italiani gli italiani come c'entri io sono italiani esatto sono sempre italiani ma no! perchè non hanno tutto l'italiano! eh! ma se sono italiani il mio polo allora cosa? glielo devono tagliare? l'indirizzo non è la canna ma vanno tagli si fa! vanno tagli 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 no vanno tagli vanno tagli le cose vanno tagli vanno tagli vanno tagli vanno tagli vanno tagli Grazie a tutti. Grazie a tutti.